Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TG20 firmato Urban Week. Questa settimana cominciamo il 14 novembre che vede Angelo Pintus in esibizione al teatro Tenda di Ragusa. Il 15 novembre invece abbiamo i 2NGV al Club 29 di San Giovanni La Punta in provincia di Catania, ma torna anche Angelo Pintus sempre il 15 novembre al teatro Metropolitan di Catania. Il 16 novembre invece vede Blue Kashmir in esibizione al Jason Irish Pub di Palermo e il Revolution al Prime Club di Catania. Concludiamo invece il 17 novembre con gli Streets Quartet al Teatro Libero di Palermo. Se volete pubblicizzare il vostro evento scriveteci sulla pagina facebook urbanweek.it a a a a a a a a Ciao